Sì, con chi Ruyo ce l'ha, è allettante e potrebbero esserci appunto dei cambiamenti classifiche. Ma io lo so. Scusi maestro, ma lei è un ingenuo, perché sa di avere conto la potenza di Ruyo, che non ne sbaglia uno, meglio far risultato esatto vuol dire far rapinare la povera Peddy Power. Ruyo tu sai già come finisce, no? Ma è ovvio, l'ho detto stamattina, l'ho anche twittato. Ha twittato? 2 a 0, cacà Balotelli, io spero sul rigore inventato di Balotelli. Allora, per tanto, questo non c'è problema. 2 a 0? Non c'è problema su questo. Vedo Elia, fisico sull'orlo dello svenimento. È d'accordo maestro, 2 a 0?